Salve a tutti e buonasera! Oggi vi presentiamo un pinche di otto mesi che è tremendo e guardate come cammino! Andiamo? Ci sta ad esempio come un canguro, guardatelo! No Amher fermo, fermo giù! Amher, giù! Fermo, giù! Andiamo! Amher! No Amher viene! Bra! So giù! E come potete vedere non è abituato neanche a camminare per strada Perché qua non ci sono i parchi intorno Quindi è costretto a camminare su marciapiedi dove può camminare E' difficile per lui poverino perché ha voglia da correre Che ha otto mesi quindi... Se ovviamente niente da fare Dai andiamo! Lo portiamo al verde Fermo! 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 Giù! Giù! Bravo! Aspetta! Aspetta! Mera aspetta! Bravo! Andiamo! 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 No! No! Non abbinisce quindi... Perché è maleducato! A ver, fermo, fermo, giù, giù, fermo, fermo, tranquillo